Vivi Cilento, CAI e la Via Silente hanno firmato il protocollo d'intesa che sancisce l'unione di intenti e mezzi per la realizzazione della seconda edizione di Cilento Destination, l'educational che garantirà a figure professionali in ambito turistico, giornalistico e social di scoprire il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i suoi paesaggi e le sue risorse naturalistiche. Quest'anno il tema sarà quello del turismo all'aria aperta, di sport ed esperienze che si possono vivere interamente in una delle aree protette più grandi e diversificate d'Italia. La partecipazione del CAI e della Via Silente insieme a Vivi Cilento, ideatore del progetto Cilento Destination, rappresenterà un plus importantissimo. Il territorio del nostro Parco offre numerose opportunità e propone esperienze uniche che attraverso le competenze e le azioni degli organizzatori verranno messe a disposizione dei partecipanti all'educational e di tutte le persone che seguiranno l'evento attraverso i canali social.